In compagnia di Simone Pillon del comitato organizzatore, ecco un commento sulla, perlomeno l'afflusso a un'ora almeno, forse più dall'inizio. Bene, è come immaginavamo, c'è tantissima gente, siamo contentissimi, le famiglie sono tutte qua, sono qui con noi oggi, per lanciare questo segnale forte, i bambini devono crescere con la mamma e con il papà, questo è il segnale di questa piazza, niente di più, lasciate stare i bambini. Quindi sostanzialmente la contrarietà al DDL Cirinà e questa cosa dell'adozione del figlio del partner nelle corpie omosessuali, per il resto sareste d'accordo che ci fosse una regolamentazione che ci porterebbe anche un po' in Europa, visto che negli altri paesi comunque sia c'è una regolamentazione? No, siamo convinti che non sia assolutamente il caso, l'Italia non è assolutamente un fanalino di coda in questo momento ma è un faro di civiltà, noi non possiamo accedere al matrimonio omosessuale perché il matrimonio omosessuale di fatto introdotto dalla Cirinà non è permesso dalla nostra Costituzione e più ancora non è nell'interesse dei bambini, i bambini hanno il diritto di crescere con la mamma e col papà, grazie. Grazie, grazie a lei. Grazie a lei. Grazie a lei.